Oh, ciao a tutti e benvenuti al 56esimo episodio di Giochi Brutti. Oh, fra due episodi di Giochi Brutti in meno di due mesi, e che è successo? È successo che a Luca Comics di quest'anno, una ragazza di nome Lucy, molto gentilmente, mi ha dato un gioco che, solo guardando la copertina e solo guardando un determinato dettaglio che tra poco vedrete, mi ha subito fatto dire, no, tu non devi attendere, ti devo controllare all'istante. Oggi finalmente ritorna una delle nostre amatissime. Non si tratta della Ludonic, ma della Microforum che abbiamo già visto in tanti altri episodi. In nove anni di Giochi Brutti sicuramente avrete già capito come funzionano queste aziende, cioè che importano giochi budget dall'estero, principalmente dall'Europa dell'est, li importano e li localizzano, sempre budget, per l'Italia. Il titolo che andremo a giocare oggi è La Casa Magica, Magic Turn. E vi dico subito qual è stato l'elemento che vi citavo prima che mi ha triggerato all'istante. Quella scritta che c'è sia sulla copertina sia sul CD, La Casa Magica, Magic Turn, un gioco in 3D d'altissimo livello. Cioè, ragazzi, una volta che leggi una cosa del genere, cioè, non puoi tipo correre a casa, infilare nel computer e farlo partire. Che, a dire il vero, non è stato proprio così facile, perché una volta inserito nel computer praticamente non è partita l'installazione. Mi sono dovuto ingegnare un pochino, nessuna compatibilità macchina virtuale. Praticamente ho dovuto installarlo sul cabinato che ha Windows XP, prendere la cartella installata, metterlo su Windows 10 e... Fortunatamente ha funzionato. In questo episodio, a differenza degli altri, non andrò a leggervi il retro della copertina, nonostante sia, credetemi, davvero molto importante. Però non lo faccio per due semplici motivi. Il primo è che viene detto il plot twist principale del gioco. Il secondo è che viene raccontato il finale. Cioè, una cosa che mi ha fatto rovinare, rovinare, tra virgolette, questo gioco quando l'ho provato, è che io sapevo praticamente già come andava a finire. Però ragazzi, io non mi dilungo in altre introduzioni, perché il video di oggi, penso, verrà parecchio lungo, quindi andiamo subito a vedere com'è fatto la casa magica Magic Turn. Un gioco in 3D, d'altissimo livello. Il gioco comincia con i titoli di testa che ti fanno ben capire la provenienza de La casa magica, una storia quasi poliziesca. Minchia. Mi sono subito venuti in mente i tristissimi cartoni animati russi che trasmettevano ogni tanto, su Ray 3 se non sbaglio, nel tardo pomeriggio della domenica. Il momento della settimana dove, penso, sei più incline al suicidio. E con quelli potevi avere un'ottima ragione per convincerti. Poi, mi ha sempre dato fastidissimo che nei motori grafici dei primi anni 2000 non era facile creare forme tonde. Ed il treno che gira per la stanza praticamente scatterà ad ogni curva del tracciato. Che trigger! Ad ogni modo, la prima cosa che mi auguro quando vedo un gioco budget tradotto è che ci sia anche un doppiaggio. È assolutamente necessario. Sono spiacente, ma gli insetti volanti non è permesso viaggiare in treno. Chi ha ordinato questo? Lei, signor poliziotto. Devo condurre un'investigazione nella carrozza. Solo quando la carrozza è ferma? Devo farlo quando è in movimento. In movimento non è permesso. Lei non mi fermerà. Cancello il mio ordine. Ok, il gioco si presenta esattamente come ce l'avevo nella mia mente prima di cominciare. Non è possibile, devo andare. Inizia il mio turno. Burocrati, non potete fermarmi con i miei stessi ordini. Avanti! Insomma, il nostro poliziotto viene lasciato a piedi, fermo nella carrozza, a condurre chissà quale indagine. Ma senza neanche capire cosa realmente stia succedendo, ci troviamo da un'altra parte. Così, mio caro collega, arriviamo all'ipotesi più recente, fatta dal famoso biologo Darwut nel suo libro Le origini dei discorsi. Egli suppone che più larga è la bocca, più grossa sarà la lingua che porta ad un... La frase finisce qui. Subito dopo c'è un buio che dura poco più di cinque secondi e il dialogo continua. Scusa un istante, collega. Cosa c'è sdraiato davanti a noi? Un nuovo problema filosofico, credo. Non adesso. Guarda in basso. Oh, è un'ape. È davvero morta? Mi sembra solamente svenuta. Che cosa te lo fa pensare? Perché mi sembra di averla vista muoversi? Dobbiamo svegliarla. Signorina, potrebbe dirci per cortesia se è viva? Diciamo che forse non è una delle frasi più rassicuranti da dire a una persona stessa a terra. Ad un certo punto, apriamo gli occhi, ma sinceramente, visti i due individui, mi sarei veramente finto morto ed avrei aspettato un pochino. Mamma, ancora lo stesso incubo. Come si sente? No, molto bene. Mi è successo qualcosa di strano. È tutto a posto. Passerà in un attimo. Ve la faccio breve io, dato che questo gioco è caratterizzato da una lentezza imbarazzante. L'ape, cioè noi, è vittima di amnesia e non ricorda niente, se non di essere entrata in quella casa insieme alla sua amica formica Tony. Poi un lampo e non ricorda più nulla di nulla. Come vi ho detto, quel che mi ha fatto odiare fin da subito la casa magica è la lentezza di ogni cosa. I dialoghi, per esempio. Tra l'altro, tirati per le lunghissime e in maniera stupida. Chi è? Chi cerca trova. Effettivamente, colui che cerca... Cosa? Vuol dire che prima ha perso qualcosa. E l'ho avviato solo da quattro minuti. Altra cosa parecchio irritante e che ci troveremo più volte durante l'intera durata del gioco è che sono stati fatti dei giochi di parole in inglese. Nonostante mi sia informato, il gioco originariamente nasce in russo, senza adattarli alla lingua italiana. Ed è veramente molto fastidioso. Come ti chiami? Mi sembra qualcosa come... Linda. Belinda vorrei dire. Beh, arrivederci Belinda. Ecco cosa intendevo. Poi si ritorna alla lentezza di sempre. Ma... Ok, qui invece è stata anche un po' colpa mia, perché il gioco comunque non ti avvisa che lì stai già giocando, quindi potresti già muoverti. E io sono rimasto tipo lì come un cretino cinque minuti a vedere il poliziotto che bussava senza capire che in realtà dovevo praticamente agire. Ma se pensavo che il doppiaggio visto finora fosse veramente becero... Aspettate di vedere il panettiere. Polizia, aprite per piacere. So che sei lì, signor Muffin. Sto arrivando, signor poliziotto. Senza che vi rubi altro tempo prezioso con questo duo armonioso, il poliziotto sta indagando su un caso di panini indigesti, tra l'altro contraffatti. E si chiede se Mr. Muffin possa collaborare con la polizia come esperto per capire meglio come muoversi. Ciò vuol dire che dovrò assaggiare... Assaggiare... Panini indigesti. In poche mosse, Mr. Muffin manda a quel paese il poliziotto, dopodiché torna in cucina a badare i panini nel forno. Panini indigesti. Davvero cadono queste cose? Madonna, che indignazione, vero? Ma andiamo a parlarci noi con Mr. Muffin. In poche parole, riusciamo a farci dire dove trovare il poliziotto, praticamente bazzica le zone della stazione dei treni. Riusciremo inoltre a comprare un panino con la moneta di scambio del gioco, i granelli di zucchero. All'inizio ne avremo soltanto due, in un portamonete, che potremmo vedere in quel che sembra essere il più triste degli inventari che abbia mai visto, oltre che il meno a tema, soprattutto. E ora che sto ricontrollando le registrazioni fatte, mi accorgo solo adesso che tipo sullo sfondo abbiamo uno spicchio di muro glicciato trasparente. Ma va bene, tanto sono abituato a vedere cose ben peggiori. Come la risposta che otterremo alla richiesta di un hamburger al formaggio, cosa che ti aspetteresti proprio di comprare da uno scarafaggio che vive in un camino. Ma avete un hamburger con il formaggio? No, ho solo panini, panini e ancora panini. Panini, loro sono l'oscurità all'inizio e la luce alla fine del tunnel. Tutta la mia vita è un totale panino. All'improvviso non mi sento più sicuro a parlare con questa persona. Quindi battiamo le ali e cominciamo a vedere l'ambiente circostante. Mi pare chiaro, anche solo a vederlo, come i comandi di volo, gestiti col solo mouse, dove abbiamo sia l'orientamento che avanti e indietro sui due tasti, siano da sbocco. E ci vorrà poco a capire anche che se non vogliamo farci venire mal di testa in pochi minuti, occorrerà andare con molta calma. Anche perché girare troppo rapidamente ci farà ruotare su noi stessi, producendo un movimento di inerzia che darà davvero fastidio. Senza dare ulteriori dettagli, i comandi di questo gioco fan cagare. Questa... Questa è una pipa. Un gioco in 3D d'altissimo livello. La prima cosa che ti viene naturale fare è esplorare questa casa, ma eviterò di soffermarmi troppo sui vari dettagli. Avremo modo di esplorarla praticamente tutta. La prima situazione davanti alla quale mi trovo è letteralmente un comizio in cucina, a testa in giù. Mi scusi, che cosa sta succedendo? Zitta, il sindaco della cucina è stato eletto. Non ho tempo di parlare con te. Gentili signore e signori. L'ora è scoccata quando il destino dell'universo e della nostra cucina è stato deciso. Allora, qui non hanno capito nulla manco quelli che hanno tradotto, perché ci viene detto che il sindaco è appena stato eletto, ma in realtà assisteremo ad un comizio per le elezioni del sindaco della cucina, dove sentiremo sparare cazzate su cazzate e vedremo l'indice di popolarità del candidato che sale o scende a seconda dei casi. Nel caso in cui tutte le norme legali saranno prese, ognuno ne avrà fin sopra i capelli, nel giro di due anni. Due anni? Ma se i filosofi che erano i più anziani si vantavano di aver vissuto tantissimi mesi? Il nostro partito ha radici ben salde. Rip. Dopodiché continuo ad esplorare la casa. Sempre nella cucina mi trovo davanti ad un piatto contenente delle noci ed un cucchiaio che selezionato ci farà uscire un mirino. La logica mi spinge a pensare che il bersaglio è quasi sicuramente il pulsante del ventilatore, ma a quanto pare non succede nulla, anche perché effettivamente non riesco a capire come far funzionare il tutto. Decido di mettermi alla ricerca della stazione ferroviaria e al piano di sopra, all'interno di uno studio, la trovo. Non capisco come mai gli insetti dovrebbero utilizzarla e pagare, in quanto le due stazioni collegate sono praticamente i due estremi della stanza. Ma vabbè. Non trovo il poliziotto, però trovo quel che sembra una biglietteria. Buongiorno, ho bisogno di un biglietto per... I biglietti non possono essere venduti agli insetti volanti, mi dispiace. Ok, abbiamo capito una cosa importante, ma quel che fa ridere è che se parleremo allo stesso tipo di gabbiotto, ma dall'altro lato, diverrà ufficio informazioni e non biglietteria. Soprattutto, il tizio all'interno si comporterebbe in maniera più educata. Il nostro ufficio richieste è al suo servizio. Posso esserle d'aiuto? Avrei bisogno... Ogni richiesta costa un granello di zucchero. Normalmente non gli avrei dato una lira, ma, vista la situazione... E tra tante domande stupide ed inutili, tra i quali... Quando parte il treno per il set televisivo? Oppure quanto costa il biglietto per Strawberry Fields, riferimento ai Beatles, tra l'altro scritto male? Ah, che poi, perché giusto, se leggete i sottotitoli, contengono errori in continuazione. Fateci caso durante il video, troverete quasi sempre un errore. Comunque, opto per la cosa più logica, dato che abbiamo pagato. E chiedo del poliziotto. Così mi stava cercando, signorina? Belinda, 90-60-90. Che cosa significa 90-60-90? Minchia, manco a Nonella Rai si presentavano così. Il poliziotto, che eligio al dovere, non si lascia abbindolare. Ma vi evito altre battute pessime da parte di entrambi. Faccio tutte le domande necessarie, come si fa in questo genere di giochi, ed arriviamo finalmente al sodo, dove denunciamo la scomparsa della formica Tony. Tony? Che strano nome per una formica. Che sia forse Ant Tony? Ah, di nuovo! Ha qualche segno particolare? Ha una bicicletta sportiva? Racconta storie spassose? Può prendere il muro a testate? È molto simpatico? Avrei serie difficoltà a tracciare un profilo psicologico sereno di questa persona. O di questa formica. Long story short, sì certo, ti aiuterà a trovarlo, sei tranquilla, tutto si aggiusterà. Oh, grazie, oh grazie, e tanti convenevoli. Si dice che la speranza è l'ultima a morire. E chi muore prima? La persona che stava sperando. Ti aiuterà. Nel frattempo, nella cucina le formiche nere e quelle rosse sono in guerra per il controllo della zuccheriera, cosa che il poliziotto ci aveva accennato qualche attimo prima. Appena finito il dialogo con lui, assisteremo ad una delle battaglie. Perchè ti sei fermato? La mia lancia si è smussata. Sei solamente un codardo. Noi non abbiamo paura, perchè vi siete fermati? Ho preso freddo. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, se ne avete il coraggio. Il portazzucchero sarà nostro in ogni caso. La squadra rossa è la più forte. È ridicolo. La nostra potenza non può essere misurata. È il cambio della guardia. Io smonto. Tu smonti come i tonti. Ma secondo voi, dato che siamo in tema russia, dovrei inserire più di un colpo se dovessi giocare alla rubetta russa in solitaria? No, così, giusto per chiedere, per fare due chiacchiere. Portandoci un pochino avanti, noto che la casa è disseminata da quel che sembrano essere i classici buchi dei topi alla Tom & Jerry, ma più piccoli. Ce ne sono tantissimi e molti di questi sono nascosti o comunque non si notano facilmente. Eventualmente potranno anche essere attraversati. Dopo questo siparietto, che fortunatamente avverrà solo una volta, scopriremo che quei fori sono praticamente dei warp per le varie aree della casa, ma si tratta comunque di passaggi inutili, in quanto sarebbe impossibile ricordarsi dove conduce ognuno di essi e soprattutto, volando, possiamo raggiungere qualsiasi luogo della casa in meno di un minuto. Primo vero dramma della casa magica. La formica pezzente e le libellule a raffasoldi. Vi spiego in breve la situazione. Queste due libellule, che compongono la compagnia aerea Dragonfly West, offrono un servizio di trasporto tramite un cestello nel quale si posiziona il passeggero, quasi sempre una formica, e si fanno pagare la bellezza di tre granelli di zucchero a tratta. Ovviamente noi eviteremo di pagarla perché già voliamo. Qui invece entra in scena la formica pezzente, che tanto pezzente non è. Perché? Alla formica in questione piacerebbe usufruire di un mezzo per raggiungere i vari posti, ma non se la sente di sganciare tre cucuzze per volare. Qui entriamo in gioco noi. Per guadagnare qualche granello di zucchero in più, non si sa mai, ci offriremo di dare un passaggio alla formica per un granello di zucchero. Dove deve andare? A insettica! Perfetto, vogliamo! Solo che c'è un piccolo quanto importante dettaglio. Non sapremo dove dovremmo portarlo. Dov'è insettica? Io città, non ne ho viste. Tra l'altro, portarsi appresso la formica renderà difficilissimo il volo, perché dovremmo puntare il muso verso l'alto, quindi non vedremo un cacchio, e andremo, molto più lenti, siccome la formica ci appesantisce tantissimo. Insomma, per farla breve, dopo venti minuti che non ho trovato il posto, non potevo compiere altre azioni, non potevo lasciare da qualche parte quella maledetta formica, spengo il gioco e carico da capo. Ritorno di nuovo da Mr. Muffin, che in realtà non avrà molto da dirci se non capire che forse qualche scheletro nell'armadio ce l'ha. Arrivati a questo punto, dato che si tratta di fare ricerche e basta, mi metto a esplorare la casa, tra i commenti idioti di Belinda, tipo Vaso della dinastia Ming. Interessante. Che cos'è una dinastia e chi è Ming? Ma ha anche tante altre cose un po' inquietanti, così come questo mini salotto con divano, tavolino e gong, e tu dici, vabbè, è un salottino a misura insetto, ma se lo si osserva bene si può notare che il salottino è una copia in scala del salone normale, e nel mobile del salottino in scala c'è una copia in scala del salottino in scala, e se si guarda bene nel salottino in scala del salottino in scala c'è il salottino in scala del salottino in scala del salone. Cioè, io mi ammazzo. Tuttavia, ci fregheremo il martello di legno sul tavolo del primo salone in scala. Così. Ma, dato che l'avevamo lasciato in sospeso, torniamo al comizio che avevamo seguito quasi all'inizio. Il pulpito è rimasto vuoto e quindi potremo piazzarci noi, senza alcun motivo specifico. Cioè, abbiamo questo minigioco dove dovremmo riuscire ad azzeccare le frasi giuste per il comizio, in maniera tale da raggiungere il 100% dei consensi degli insetti che ci stanno ascoltando. Ci ho messo circa 20 minuti per concludere questo minigioco perché devi prendere carta e penna segnandoti quali sono le frasi giuste che ti daranno il punteggio più alto ed utilizzarle tutte in un unico discorso. Una rottura di balle incredibile, del quale anche da questo gioco puoi capire una cosa. I granelli di zucchero diventeranno più grossi e le carte moschicida più piccole. Anche i russi sanno che in politica devi dire quel che vuole sentire la gente. E' un teatro. Una volta completato il minigioco arriverà tale Burchill, che ancora meglio di me sarà in grado di colpire la pancia della sua audience e si piazzerà lì a parlare ad oltranza. Va bene, facciamo altro. Per un buon periodo sono stato a girare per casa senza capire realmente cosa dovessi fare. Ho provato a intervenire su Burchill, niente. Sono andato alla stazione del treno, niente. Sono andato di nuovo al piatto con le noci dove la formica di guardia è andata a seguire il comizio e ho capito che c'è da fare prima un'altra azione. Caricare sul cucchiaio la noce e poi, dopo aver puntato, ci saltiamo sopra e... Niente. In questo punto del gioco ho cominciato a gironzolare in vano per capire quale dovesse essere la mia prossima mossa. Scopro che posso entrare nei condotti dell'aria condizionata, dove trovo una blatta fatta di coca. Come va? Sei venuto nel posto giusto? Se stai cercando un bel viaggio attraverso la ventilazione, sei a cavallo. Una blatta qualificata ti mostrerà tutti i trucchi. Compierei una distanza di centinaia di passi. I miei passi. Quanto costa l'escursione? Un granello di zucchero. Di tutta sta situazione ho capito una cosa. Ho bisogno di più cash. E al momento l'unico che pare voglia sganciare qualcosa sia proprio la formica che cercava un passaggio. Nel frattempo trovo pure qualche misteri di Capri Reference. Ai Wazowski. La baia di Napoli al chiaro di luna. 1842. Insomma, mi decido a caricarmi la formica addosso e poi... E poi... Vi posso solo dire che la parte in cui ho cercato dove dovevo portare la formica è durata ben 41 minuti di registrazione. Provandola a portare in ogni dove, appena la poggio di fianco al frigorifero... Grazie per la consegna. Ma allora... Ma allora quei buchi sparsi per casa servono a qualcosa! Ma poi tra l'altro, come un idiota, scopro che la formica è sempre lì e letteralmente potremo farmarla per guadagnare un granello di zucchero alla volta. Il problema è che ogni volta avremo una destinazione differente e sprecare 40 minuti per capire quale sia, sinceramente non mi va molto al genio. E mentre stavo fermo in un angolo a scrivere questa annotazione sui miei appunti... E' la soluzione ad arrivare da me. La compagnia aerea Dragonfly West vi dà il benvenuto. Dove dovete andare? A Creep Palace. Dovete imbarcarvi subito. Quindi possiamo capire quali sono le destinazioni semplicemente seguendo le libellule. No, cioè, aspetta. Semplicemente il cavolo. Il cavolo perché è una procedura molto lunga che adesso vi riassumerò. Arriva una formica. Dove arriva, intendo, con i tempi del gioco. Dobbiamo rigliare la destinazione sentendoci ogni volta la presentazione, la compagnia aerea Dragonfly e così via. C'è una procedura d'imbarco e il volo, lentissimo, verso la destinazione. Questo ciclo dura circa 8 minuti perché giustamente se vogliamo aspettare di sapere altre destinazioni dobbiamo attendere che le libellule facciano anche il viaggio di ritorno attendendo un altro cliente che arriverà con la velocità che vi ho fatto appena vedere. Ma se questo loop di cui vi ho appena parlato vi mette l'ansia aspettate che vi aggiunga altri due dettagli. Il primo è che le destinazioni disponibili sono 9, 9 destinazioni e soprattutto una volta che ritornerete allo spawn a camperare le libellule non è detto che la formica successiva raggiunga la destinazione successiva. perché le richieste delle formiche sono casuali. Immaginate la disperazione nello scoprire che esistono 9 posti dove non hai la certezza ma la possibilità che capitino uno alla volta stando vicino alle libellule. Quindi senza che vi dica il tempo che ho impiegato in questo punto immaginate solo che nel migliore dei casi avremmo 8 minuti moltiplicati per 9 ottenendo quindi 72 minuti di osservazione del viaggio. Provate a immaginare come può essere farsi questa parte del gioco. Cioè ancora adesso se mi chiedi qualcosa riguardo la casa magica la prima cosa che mi viene in mente è l'incubo che ho passato con questo gioco. Credetemi, io quella notte ho sognato le libellule. Dopo tutto questo gran casino decido di procedere con calma. Perdere un'altra oretta, scarrozzare la mosca in giro per le vere destinazioni in maniera tale da farmare almeno una decina di granelli di zucchero che potrebbero servirvi durante la mia partita e poi a posto, quella formica non la voglio vedere più. Adesso ho finalmente il cash adatto per fare il tour con la blatta che ci carica in cariola e ci porta nelle profondità dell'aria condizionata dove a dire il vero mi aspettavo lo stupro più totale ma in realtà ho assistito a una scena a metà tra l'inquietante e il ma dove mi hai portato? Oh, sembra di essere in un altro gioco. Bene, da dove cominciamo? Arriva un certo punto in questi giochi in cui smetto di farmi domande, continuo ad andare avanti e prendo il gioco per quel che è, che per non impazzire probabilmente è la scelta giusta da fare. Sempre. Ripassando dalla cucina e vedendo la situazione rimasta così come l'avevo lasciata l'illuminazione. Forse dobbiamo buttare quella pesantissima mosca sul cucchiaio per far volare la noce più lontano quanto basta per accendere il ventilatore e vedere cosa succede? Proviamo. Solo che sarò costretto a ricaricare di nuovo il gioco, poiché ci porteremo la formica, che tra l'altro non volevo più rivedere, la porto sul piatto e non potremo caricare la noce mentre la stiamo trasportando, mi intendo. Quindi carico di nuovo il gioco, vai in cucina a preparare la noce, torna su in camera a prendere la formica e dopo tanti tentativi di posizionarsi sopra il cucchiaio perché ricordo dovremo guardare verso l'alto mentre trasportiamo la formica, alla fine ce la faccio. I cappelli Devono ritornare ai cittadini Questo berretto fortunato è caduto su di me Ti piacerebbe metterci qualche cosa lì? In che senso, scusi? Insomma, parleremo altri cinque minuti buoni di nulla con il politico rimasto a terra ma tutto il nostro dialogo si può riassumere facilmente con l'ultima frase Baratto il cappello per un panino alla vaniglia Bene, siamo punte da capo con le tante cose lasciate a metà e senza sapere in realtà cosa dovremmo fare Quindi stiamo al gioco e continuiamo a vagare per casa in cerca di... cose Girovagando nel bagno mi imbatto in una cosiddetta... Vespa molto calda Chi conosce l'inglese sicuramente si starà già impiccando Dopo questa mi sono fermamente convinto che non troverò un personaggio che si salva in questo gioco Cioè, tu puoi trovare scemi o gente che non capisce un cazzo Cioè, non ci sono vie di mezzo, questi sono i personaggi di Magic... come si chiama sto gioco? Della casa magica Fausta è una venditrice In poche parole cercherà di venderci la roba che si trova in bagno Tolte cose improbabili tipo una macchina o un computer per il quale ci chiederà migliaia di granelli Cerchiamo di prendere tutto quel che ha prezzi abbordabili In questo caso, dentifricio, il sapone liquido e un ricambio per spazzolini Che poi si tratta di una setola di uno spazzolino Non ho idea se esista qualche matto che effettivamente ripara gli spazzolini cambiando setola per setola Però, il riferimento di ricambio per spazzolino si riferisce proprio alle setole I prezzi non sono fissi e vanno contrattati E qui è la fiera del randomness Credetemi, il nostro obiettivo è quello di far scendere il più possibile i costi Ma questo va fatto nella maniera più stupida e casuale che poteva essere pensata Dobbiamo spammare offerte a caso sperando che il prezzo si abbassi E per poter acquistare ogni articolo occorrerà sorbirsi una maniera di dialoghi come questo Due granelli Dieci granelli Un granello Sette granelli Due granelli Cinque granelli Ok, riusciamo alla fine ad ottenere tutto quel che vende la vespa molto calda e ci togliamo dalle balle Ok, come accade sempre in Giochi Brutti In questo momento siamo nella fase centrale del gioco E da qui fino alle prossime ore distronzate ne succederanno a fiumi E sono veramente tante E quindi vi faccio un riassunto di quel che succede filtrandovi solo il meglio Torniamo in cucina dove incombe, come sempre, la finta battaglia tra formiche per il portazucchero All'interno del quale riusciremo ad entrare cospargendosi di sapone liquido E una volta dentro Nel vaso non c'è zucchero ma vaniglia Avviso le formiche all'esterno della tragica scoperta del gomblotto Ma a quanto pare loro vogliono combattere comunque per una questione di principio E vabbè, contenti voi Oro la vaniglia e la focaccia Vado dal tizio per comprare il cappello Ma lo scarafaggio, è il caso di dirlo Non vuole un panino con la vaniglia ma un panino alla vaniglia Quindi vai dal fornaio e chiedi di fare un panino alla vaniglia Lui ci dice che non è possibile poiché per fare il panino con la vaniglia Ci vuole una pala resistente adatta Indago all'interno dell'acquario dove trovo una mosca arrematrice Che vuole sfidarmi in una gara di canoa Perché dovrei farlo? Perché se lo abatto mi regalerà il remo d'oro Sicuramente potrà essere un'ottima pala Solo che non possiamo gareggiare prima di aver trovato un nostro remo E dopo due ore di ricerca Torno nel bagno Come cacchio fai a trovare una cosa così piccola? Questo è un remo bello forte A quanto pare tanto tanto tempo fa qui c'era dell'acqua Con delle navi che galleggiavano Ma che navi ho? Ma sei impazzita È come se non bastasse Mi sono demoralizzato quando sono riuscito a individuare un foglietto Ma totalmente a caso Questo foglietto è necessario per la risoluzione del gioco In un posto davvero impossibile Ecco L'avete visto? E adesso? E adesso? E adesso? E adesso? Cioè come cacchio fai in maniera intuitiva a trovare una cosa del genere? È un pezzetto di volantino che dice Compagno insetto Nella lettera semplicemente c'è scritto Compagno insetto Qualcuno ti vuole incontrare Fine Con il remo andiamo a sfidare la formica rematrice E la battiamo Diamo il remo d'oro e la vaniglia a Mr. Muffin E in pochi minuti ci tirerà fuori un panino alla vaniglia Andiamo dal sindaco che ci darà il cappello Il cappello lo riportiamo a Burchill Burchill ci darà il suo biglietto da visita E ci esorta a contattarlo Se ci serve una raccomandazione Per una nostra eventuale carriera in politica Dal resto come si dice Tutto il mondo è paese Andiamo dal poliziotto E gli diamo il volantino comunista Noterà che hanno dimenticato il logo della tipografia Dove è stato fatto Solo che non riusciremo a capire dove si trova Ma questo dubbio durerà poco In quanto il biglietto da visita di Burchill È stato stampato nello stesso posto Solo che questa volta c'è un indirizzo Ed è a Gasonia Prossimo obiettivo Trovare Gasonia Sì Ma dove? Torniamo sempre da loro La compagnia aerea Dragonfly West Vi dà il benvenuto A Gasonia Si tratta del forno del gas Una vaga idea ce l'avevo Bene, ora che vi ho riassunto praticamente Due ore in cinque minuti Torniamo a parlare A un ritmo meno ansiogeno Però non meno ansiogeno Dei nuovi effetti sonori che ho trovato applicati alle voci Mister Gassi Apra per piacere Polizia Polizia Perché siete qui? È tutto in ordine Ma qui esiste qualcuno che parla in maniera normale E senza filtri sparati a caso Cioè capisco che probabilmente sarà stato doppiato da due persone per 30 personaggi Però che cacchio E mentre Poliziotta e Scarafaggio stanno a parlare dello zio di quest'ultimo Proprio nel momento in cui la copertura sembrava andare benissimo per il verso giusto FLEEMANT! SCAPPA! Ma porca miseria Stava andando tutto perfettamente Avevi anche attaccato la chiacchiera col poliziotto E l'ape non si era accorta di nulla Ma poi la formica dietro Stava osservando bene la scena C'era bisogno di urlare e farsi sgamare a tempo zero? Io sorveglierò questo ragazzo E lei troverà FLEEMANT Ma probabilmente lei No 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 Io devo rimanere qui Vai ora Cioè ma questo poliziotto veramente Ogni volta trova una scusa per svignarsela e non fare un cacchio Cioè io prima sono andato veloce Ma non è la prima volta che fa uscita del genere Lo chiedi a me E a chi se no? Non c'è nessun altro qui Quando ha trovato dov'è Gasogna Mi chiami Vai veloce Non perdere tempo Insomma un grande uomo con grandi ideali Ma sapete cos'è ancora più grande Ma probabilmente lei Una delle cose che più odio trovare in un gioco Specialmente se fatto male Non posso dirlo Il cacchio di labirinto I condotti dove è scappata la formica rossa Non sono altro che un grande labirinto Ma non un labirinto normale Un labirinto a due piani E con tutte le texture uguali Cioè a volte non riesci nemmeno a capire se ci siano delle svolte Perché non essendoci neanche ombre Ed essendo ogni parete uguale all'altra Sarà un casino muoversi al suo interno Ma un casino totale Ragazzi io vi risparmio questo giro Perché è stato veramente stancante E difficile da capire Ma ancor più difficile da capire È stato il metodo Con il quale si deve trovare l'insetto Girando senza speranza per il labirinto Ad un certo punto mi compare una scritta a schermo Ma giusto per una frazione di secondo Muro sospetto Muro sospetto Ma è uguale identico a tutti gli altri muri del maledetto labirinto Poi è favoloso come per buttare giù un muro di metallo Useremo, indovinate che cosa Il martello di legno per il gong Che abbiamo trovato nel salone Che è praticamente il martello di Thor Camuffato da martellino Cioè io veramente sono fuori completamente dai miei panni Specie quando ti saresti aspettato Una battaglia epica tra ape e formica Sei in arresto Che peccato E finisce veramente lì Come unica cosa positiva che posso dire fino ad adesso È che solo in questo momento Dopo quattro ore di gioco Comincia finalmente un minimo di trama E veniamo a scoprire Cos'è quel qualcuno Che viene citato nel bigliettino minuscolo Che abbiamo trovato nel camino Qualcosa è un'associazione L'associazione per l'umanizzazione del mondo Umanizzazione? Di chi? Degli insetti Non è un segreto Ci sono volantini dappertutto In questa casa vive un bravo mago Che può trasformare gli insetti Così POS ha deciso Perché non trasformare gli insetti in uomini? È contro la scienza Però funziona E chi sarebbe questo boss? Nessuno Ha visitato il laboratorio di magia Ed ha imparato diversi trucchi Non si è trasformato in un uomo Ma si può trasformare in diversi tipi di insetti E nessuno sa quale insetto sia adesso Tutto ciò è illegale in qualche modo? Insomma È contro la scienza Ma non è illegale Perché mi ha arrestato allora? E tu perché sei scappato? Gessi ha iniziato a urlare Ecco perché sono scappato E perché Gessi ha urlato? E chi lo sa? Sta sempre zitto Vede? Siamo assolutamente puliti Quindi non vieni con me? Certo che no Dovrebbe esserci abituata In mezzo a tutto questo casino Flimant dice che la blatta Che avremmo incontrato precedentemente nei condotti Quella con la cariola per intenderci Sostiene di aver visto tale Tony la formica Saputo questo Andiamo a prenderci un caffè Dalla blatta dell'aria condizionata Dov'è adesso? Vuoi vederlo? E' veramente possibile? Beh posso portarti da lui Entra nella cariola Io non me la sarei fidata così tanto Specia se devo essere trasportato in cariola Dove stai andando? Ingenua ragazza Hai pensato che ti avrebbe portato da Tony la formica? E non uscirai mai da qui Ti ricordi di me? No Belinda io esco Cioè me ne sono andato prima Me ne vado adesso eh Sul serio però Ti ricordi di me? No Sembra che hai dimenticato tutto Sì Mi sono scordata tutto L'inizio del videogioco Ragazzi la vogliamo smettere di fare Riferimenti idioti al videogioco Vi prego Anzi Vi lascio anche adesso una sequenza un po' più lunga Perché finalmente adesso C'è un minimo di plot Ho visto con i miei occhi come voi persone Vi siete trasformati in un'ape in una formica Sai I nostri ragazzi hanno catturato subito Tony E tu Sei finita lunga distesa Ma il boss Non ha bisogno di nessuna ape Se non avessi ficato il naso nel condotto di ventilazione a quest'ora Saresti libero Ciò vuol dire Che sono un essere umano Mi sento svenire Oh ragazzi aspettate con i what the fuck La scena non è ancora finita Che cosa mi è successo? Dove sono? Oh Sta arrivando Mr. Herlock Ma perché è così luccicante? Xus Sei in arresto per detenzione illegale di api Da ora Sarà fuorileggia anche per detenzione illegale di ispettori di polizia Ha 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 Che cos'è questo? Un sogno? Ha 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 Sei rimasta sveglia tutto il tempo Ok Adesso sono veramente confuso Ve lo dico adesso perché sicuramente dopo me ne dimenticherò Però Non viene data alcuna spiegazione sul passaggio del poliziotto attraverso le barre In stile Terminator 2 E soprattutto Non si capisce come abbiamo fatto a svenire una seconda volta come degli idioti Questo gioco fino all'ultimo minuto Riserva perle d'altissimo livello Da drogati Ma pur sempre d'altissimo livello Nuova zona della casa L'armadio La prima cosa che troviamo Non capisco proprio cosa sia Ma la descrizione dice Che è un pezzo di materia Solamente un pezzo di materia Insieme a quello Troviamo anche un insetto Che dai vestiti che vengono inseriti nell'armadio Raccoglie pezzi di cibo Quindi il nostro compito adesso È cercare sui vestiti Dei residui E imbottigliarli per lei Ed anche qui Santa Lucia Viene in nostro soccorso Perché il pezzo da trovare È veramente minuscolo Diamo il cibo alla tipa Ma potremmo tenerci in un altro per noi Ma non appena prova a uscire dall'armadio Quando mi è successo Mi sono un attimo spaventato Perché era totalmente inaspettato Semplicemente Si sono dimenticati di sostituire l'audio Vabbè Comunque Se proviamo ad uscire dal buco La formica sovietica Ci rimanderà indietro Perché la puzza della bottiglia È troppo forte Come fare quindi Per uscire e portarla con noi Dato che non ci sono altre vie di uscita Nella maniera più no sense Che si possa immaginare Perché giustamente Se te la porti addosso Non va bene E ti compare la formica Se la butti attraverso la porta La formica non c'è Ed è ok Va bene Con un sofisticato sistema Di carriole e boccette Riusciamo a mettere fuori gioco il ragno E finalmente Riguadagniamo la libertà Sì Ma questo gioco Quando cacchio finisce? Per fortuna Adesso ci stiamo Pian piano avvicinando al finale Adesso che possiamo accedere A tutto il condotto da reazione Troviamo la stanza segreta da stregone E all'interno della clessidra Presente sulla scrivania Ciao Tony Sei tu Ehi Linda All'inizio non ti avevo riconosciuta Oh ma ciao Ti ho visto dall'altra parte della strada Bocca a sorte Come stai? Non ci hanno trasformato in insetti E chiusi in una maledetta clessidra Stupidi Comunque Verso la fine Si nota che lo scazzo generale Che hanno messo per la localizzazione Sta via via aumentando E prendendo piede In ogni caso Non potreste strisciare Da nessuna parte qui Da questo momento Non aggiungo alcun commento Perché come potete vedere È già bello così Tolto il fatto che l'altra formica È veramente lo Slav Con la goal chain Mentre parlavamo con Tony Abbiamo capito Cosa ci è successo Stavamo giocando a palla Fino a quando il pallone Non è finito sul tetto Di questa casa Dopodiché Nel tentativo di recuperarla Entrando in casa Ci siamo ritrovati In questa situazione Di merda Ok stiamo finalmente Entrando nel finale Qui sarà un po' bizzarro Raccontarvi quel che succede Perché avvengono Poche cose Ma per quelle poche cose Bisognerà perdere Tantissimo Tempo Cominciamo col poliziotto Boss è seduto qui Nell'ufficio informazioni È lui il vero rapitore Allora andremo a fare visita A quest'ufficio Non mi prenderai Non ne sono tanto sicuro Il duello finale È finalmente cominciato E dovremmo riuscire A dare una mano A risolvere la situazione E soprattutto Liberare il cacchio di Tony Che è ancora prigioniero In quella clessidra Premessa Il percorso per raggiungere La stanza magica È bello lungo E fastidiosissimo Da gestire in mezzo ai condotti Quindi dovremo decidere Bene quando andare Da una parte all'altra Se non vorremmo stare a impazzire Sulla scrivania Del padrone di casa Troviamo un libro di magie E due incantesimi Che potremo recitare Dove vengono date Le istruzioni in seguito Per ricaricare Il tuo orologio Usa la frase magica Numero uno È la gioia per i denti Per estrarre Gli insetti Da posti difficili Usa la frase magica Numero due È le mandibole di ferro Mentre le magie sono Chiaro? È semplicissimo Allora Proviamo a recitare La prima formula Quella per l'orologio Solo che recitandola La prima volta Non succede niente Quindi dobbiamo capire Cos'è questa gioia Per i denti Di cui parlava il libro Ovviamente Si tratta del dentifricio Facciamoci tutta la strada E posizioniamolo Sull'orologio Oh ragazzi Quali cose interessanti Stanno accadendo qui? Mettendo un attimo Da parte il fanservice Torniamo velocemente Nella stanza E riproviamo la formula magica Zabalazamakayaku Dov'è sparito? Ah! Torniamo per la terza volta Nel salone Risistemiamo il martello Di torri legno Sul tavolo E rivoliamo subito Sul libro di magia Provando ancora Oh Il martello Deve saltare fuori Ok Ora va tutto bene Andiamo a vedere Che si dice Benvenuta nel club rotonda Ok Piacere Non servite a niente Nel frattempo Vediamo la lotta Che va avanti E noto che sui binari C'è una leva di scambio Senza leva Capisco subito Che occorre La setola dello spaziolino Per azionarla Ma non funziona comunque Buon poveriggio Vieni dal reparto Di riparazioni Dopo questo Manca solo un napoletano E abbiamo concluso Il tizio ci dirà Che lo scambio Non funziona Perché manca Un ingranaggio fondamentale Proverete a sostituirlo Con il panino Dell'inventario Ma quest'ultimo È troppo grosso Occorre uno più piccolino Fermo 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 Aspetta Mo che ci penso Ma Mr. Muffin Si è fottuto la pala d'oro Non abbiamo tempo Per pensare anche a lui Che subito ci imbattiamo In un'altra situa Dove c'è una mosca Tenuta prigioniera Da un ragno Che non si è accontentato Di fare la ragnatela Come tutti i ragni Ma ci ha installato Anche un cancello d'acciaio E quando gli effetti Sonori di merda Sono finiti Bisogna ricorrere Agli effetti Più elementari Come tapparsi il naso Porterò qui il poliziotto Portalo Il ragno nel frattempo Mi succhierà Viva Il ragno carceriere Che tra l'altro Somiglia allo psicopatico Del video in flash Di Milkman Di FX Twin Che non vi linko Per decenza Altrimenti a sto giro Il canale Me lo chiudono veramente Per rilasciare la mosca Vorrà far parte Del club martello Che abbiamo scoperto prima Gli basta solo La tessera di associato Gli basta solo quella Andiamo a parlare Col club martello Che ha una regola d'onore E disciplina Ben precisa Ma diventare membri Non è cosa Tanto facile È vero Hai bisogno Di raccomandazioni Ok qui è facile Perché sarà sufficiente Mostrare il biglietto Da visita di Burchill E dire che ci raccomanda lui La cosa funzionerà Ovviamente Dovremmo dire una bugia Perché dobbiamo Far intestare la tessera Al ragno E non a noi Come ti chiami? Mi chiamo Beh Chiamatemi Spinner il ragno Il tuo nome Spinner il ragno? Ma sei un ape? Stai assumendo La mia specie? Ci facciamo dare la tessera E liberiamo la mosca La mosca ci darà la sua focaccia La focaccia potremo usarla Come ingranaggio E potremo finalmente Mettere fine alla sfida La grandessa è giusta? Proviamo Torna indietro Già mai Che poi ragazzi Si stavano menando Su un treno A cazzotti Quando in realtà Erano entrambi animali Dotati di ali Dai porca miseria Alla fine Verremo a sapere Del piano malefico Che tra l'altro È avvenuto per puro caso Sta bestia verde Ci spiega che lui Non ha trasformato Un bel niente Ma il mago proprietario Di casa A mo' di antifurto Ha lanciato Un incantesimo Che trasforma In insetto Ogni sconosciuto Che entra in casa sua E questo insetto Ha voluto approfittarne Per imprigionare Tony E tentare di diventare Lui umano Per prendere il suo posto Lui è un genio del male Però Se ci pensate bene Tutto sto casino In fondo in fondo È colpa proprio Di Linda e Tony Cioè che se non si facevano I cazzi suoi Come dice Chiaramente il folletto Burbero Tutto questo Non sarebbe successo Cioè Quel che ha fatto il mago Gli effetti che hanno avuto Cioè Totally legit Tutto quello che ci serve Per arrivare al finale È l'ultima formula Per la quale Useremo le cesoie Che troveremo Dopo il combattimento Queste Andranno poggiate Sulla clessidra E recitando le parole magiche Potremmo finalmente Liberare Tony Nel finale Arriveranno anche I due filosofi Che verranno a dirci Che hanno scoperto Tutto quel che è successo Quando oramai È tutto finito Grazie di cura L'unica cosa aggiuntiva Che vorremmo a scoprire È che per sciogliere La maledizione E tornare uomini Sarà sufficiente Uscire di casa Tutto qui Per farlo Il macchinista Ci offrirà gentilmente Di accompagnarci In giardino col treno Fino al cancello Ma non c'è la strada lì La strada? E chi ha bisogno Della strada? Ma il cacchio di finale Di ritorno al futuro 3 Amici Questo forse è stato Uno dei giochi Più tediosi Che mi sia mai capitato In questa rubrica Non tanto per la fattura Anche perché Non ha sofferto di glitch O cose estremamente strane No È semplicemente brutto È proprio brutto Come storia Contesto Estetica Nel caso della localizzazione Anche traduzione Sottotitoli Che di sicuro Avrete notato Un errore Ogni due o tre frasi Completamente inaccettabile Ma Ehi Non scordiamoci Che si tratta Di un gioco 3D Di altissimo livello E poi Ritornando all'introduzione Pura del video Non vi avevo letto Di proposito Il retro della copertina Perché C'è scritto Chiaramente Che noi entreremo In questa casa Il cui proprietario È un mago E verremo Trasformati In un'ape E una formica Praticamente Ti spoilerà Tutto quanto In due sole frasi Pazzesco E lo sapete Che fine fanno I giochi pazzeschi Finali pazzeschi Però a tema Che fine fanno Ehi, ma c'è di ancora vivo? E anche oggi abbiamo fatto il nostro dovere. L'arma che avete appena visto la vedrete tra qualche giorno sul canale delle armi. Per oggi vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.